Oggi voglio parlare di religione e del modo in cui le persone nell'epoca contemporanea si relazionano ad essa. È un tema molto spinoso che si dovrebbe approfondire e che chiaramente tratterò sinteticamente trasmettendovi il mio pensiero in merito. Inizio subito con una fondamentale premessa di carattere linguistico che è doverosa quando si fa un discorso teorico su una questione, su un problema, su un fatto, perché se non si chiariscono i termini poi non si può andare a discutere utilizzando appunto dei termini che vengono intesi magari in maniera differente rispetto a quella in cui si intende quando se ne parla. Allora intanto incomincio col dire che noi di fronte alla religione abbiamo tre modalità con cui possiamo porci. C'è la modalità atea, l'ateismo è quello di chi rifiuta Dio, dal greco ateos, alfa privativo, senza Dio. L'ateo è colui che non crede in Dio e quindi è colui che rifiuta radicalmente Dio e quindi più in generale una visione religiosa della vita e del mondo. La seconda posizione è il teismo oppure più comunemente la credenza. Il teista, cioè il credente, è quello che crede in un Dio, è quello che si affida a una divinità o a una molteplicità di divinità. Poi abbiamo chiaramente la visione monoteista, la visione politeista che utilizzano o una divinità o una pluralità di divinità per spiegare il mondo, la vita, l'origine del cosmo e così via. Quindi il teista crede, è un credente, crede in Dio. Poi abbiamo una terza via molto interessante e secondo me altamente filosofica, ma mi riserverò di fare altri video dove approfondirò questo argomento, che invece è l'agnosticismo. Ecco, l'agnostico che cosa fa? Ne crede, ne non crede. L'agnostico sospende il giudizio perché ritiene di non avere i giusti strumenti e crede di non avere sufficienti strumenti per poter indagare, per poter analizzare e di conseguenza per poter fornire una risposta. Questi sono i tre scenari principali con i quali ci si può approcciare alla religione. Lo scenario agnostico, che è quello, secondo me, come ho accennato qualche istante fa, propriamente filosofico, perché è lo scenario, diciamo così, la scelta più umile, più consapevole di chi in qualche modo riconosce di essere piccolo rispetto alla grandiosità dell'universo, del mondo, della stessa vita e più in generale di questioni che sono eterne, perché da sempre l'uomo si interroga sull'esistenza di Dio e ha fornito sempre risposte, ma non ha avuto né in un senso né in un altro delle prove certe della sua esistenza o della sua non esistenza. Quindi, premesso che per me l'agnosticismo è la via sicuramente più filosofica e quindi più razionale, ma ne parlerò in altri video, oggi le tendenze principali sono due, cioè o si è atei o si è credenti. Questi sono i due scenari. Gli agnostici sono sempre di meno, perché l'essere umano ha voglia di affermarsi. Quella volontà di potenza di cui ha parlato Nietzsche, ma di cui hanno parlato tanti filosofi, è propria dell'epoca contemporanea e dell'uomo contemporaneo. L'uomo non vuol vivere in un limbo, non vuol stare nell'incertezza, vuole affermarsi e di conseguenza, di fronte a una questione fondamentale, spinosa, complessa anche, come la religione, l'uomo non può dire mi astengo, non ho gli strumenti. L'uomo deve in qualche modo affermare il proprio pensiero con convinzione e quindi di fatto ripudia, l'uomo contemporaneo ripudia l'agnosticismo, perché l'agnosticismo viene considerato quasi un simbolo di debolezza. Invece al contrario il teismo, la fede, o al contrario l'ateismo sono una presa di posizione. Io voglio prendere posizione. Ebbene, qual è il problema fondamentale della nostra epoca? Per quello che io osservo, per quello che vedo, stando alle persone che conosco, alle persone che ho incontrato, che queste due tendenze sono estremizzate, sono radicali. Io oggi vedo prevalentemente, poi ci sono delle eccezioni, ma chiaramente parliamo da un punto di vista statistico appunto di il maggior numero di persone con cui mi sono incontrato, con cui mi sono confrontato in merito a queste tematiche. Oggi abbiamo due scenari. Abbiamo da un lato gli atei che sono sempre, sempre, sempre più atei e che sono più radicali dell'ateismo classico, cioè per intenderci più radicali anche di un Marx, di un Feuerbach. E voi potreste dire ma come si può essere più radicali di un tizio che diceva che la religione è l'oppio dei popoli, quindi era marcatamente, esplicitamente, visibilmente ateo. Si può perché la categoria degli atei contemporanei non riguarda soltanto un rifiuto di Dio, ma l'ateismo contemporaneo coincide quasi con quello che una volta si chiamava nichilismo. Cioè gli atei contemporanei, questa categoria di persone che vanno oggigiorno per la maggiore, non solo negano Dio a prescindere, ma negano ogni valore, ogni possibilità di dialogo, ogni ulteriorità che non sia scatologica o metafisica. Cioè per intenderci, anche la stessa meditazione, che poi non è una pratica prevalentemente religiosa, ha a che fare col benessere psicofisico, con la cura della persona, viene spesso negata, avversata da questi atei convinti. E ripeto, le due cose non sono connesse. Ecco, la mia tesi è dimostrare che oggi la categoria degli atei si è fatta molto più radicale perché non solo nega Dio e rifiuta proprio il concetto di Dio, ma più in generale quello di religione, divinità, realtà ultraterrene, eccetera, ma nega in qualche modo tutto quello che ha a che fare con dei valori, con delle pratiche, con delle credenze che non sono necessariamente ascrivibili e riguardanti in qualche modo l'ambito religioso. Questo è il primo scenario che abbiamo oggi appunto. Il secondo scenario è quello dei credenti, perché oggi ci sono ancora dei credenti, ci sono dei credenti, ci sono delle persone che vanno a messa o magari credenti non praticanti che appunto non vanno a messa, non prendono l'eucaristia, non si confessano, non seguono i vari sacramenti previsti dalla loro religione, ma in questa seconda categoria troviamo dei credenti che hanno completamente abiurato il pensiero, che hanno completamente fatto abdicare da sé la razionalità e il pensiero critico. Cioè troviamo dei credenti, dei religiosi estremamente fanatici. Io ho parlato con delle persone che si dichiarano credenti che appunto loro il sesso prima del matrimonio assolutamente non se ne parla, bisogna fare tutto in maniera precisa, meccanica, se fai quella cosa lì impecchia. Dio quindi deve andarti a confessare peggio, come direbbero molti, appunto di quello che avveniva nei secoli passati. Non solo nel Medioevo, perché molti attacchano nel Medioevo non capendo che per certi aspetti dal punto di vista religioso l'epoca moderna è stata assai più bigotta e retrogata rispetto al Medioevo, anche se questa cosa viene solitamente messa in secondo piano. Quindi cosa voglio dirvi ragazzi? Che oggi dal punto di vista religioso non abbiamo detto tre scenari. L'ateismo, la fede, la credenza in un qualche Dio o l'agnosticismo. L'agnosticismo in qualche modo l'abbiamo cancellato perché noi abbiamo bisogno di risposte, noi non possiamo farci trovare impreparati. L'agnostico è troppo umile, troppo sincero, l'agnostico ammette i propri limiti. In un certo senso un agnostico ha un po' dello spirito dei greci, dei grandi Platone, Socrate, Aristotele, perché ammette il suo essere limitato, il suo essere mortale, ammette il suo non riuscire a dare delle risposte certe, perché si rende conto appunto che la questione di Dio è immensa. Quindi l'agnosticismo via, rimangono due risposte, o credo a Dio o non ci credo. La mentalità binaria tipica, ci credo o non ci credo. Chi non crede, non crede a niente, cioè nel senso non legge la Bibbia, non legge i Vangeli, rifiuta Dio e prova disgusto per Dio, quasi lo offende, lo insulta, non ci crede ma lo insulta. La bestemmia è un controsenso, no? Bestemmi in qualcosa che non esiste, e non esiste perché non ci credo, per me Dio non esiste perché sono ateo, però lo bestemmio. Dall'altro lato, nell'altro versante, troviamo invece il teista, troviamo il fedele, troviamo il credente, il religioso, poi usate la parola che preferite in tal senso, che decide di non pensare, decide di far sì che il pensiero abdichi da sé. C'è scritto così, nella Bibbia c'è scritto così, nei Vangeli c'è scritto così, non va bene. Tempo fa parlavo con una ragazza molto fanatica appartenente a questo secondo paradigma appunto in relazione alla fede, e parlando, insomma, si parlava appunto di sessualità, di relazioni umane, di rapporti, dopo tre minuti che abbiamo iniziato a parlare, già ha iniziato a mettere le mani avanti, a dire, per esempio, si parlava dell'omosessualità, di alcune scelte, diciamo, nella sfera sessuale e relazionale, e lei ha esordito appunto dicendo che l'omosessualità è un peccato mortale, non si può, perché Dio, perché c'è scritto, e mi citava anche i passi della Bibbia, mi citava dove l'omosessualità è un peccato mortale. E allora io penso e rifletto, ma non è possibile una terza via? Lasciamo perdere l'agnosticismo, l'agnosticismo è una via a sé, ma rimanendo all'interno appunto di questo binomio, credo o non credo? Credo in Dio o in una pluralità di Dio o di divinità? Oppure non credo, no? Perché ragiono, non esiste, eccetera. Tenete presente che storicamente noi troviamo degli intelligentissimi e validissimi atei, così come troviamo dei validissimi e dei nobilissimi credenti, e questo per dire che non sei più scemo se sei ateo, sei più intelligente se sei credente o viceversa. Sono entrambe due posizioni legittime che ci propongono insomma autorevolissimi pensatori, saggi, scienziati, scrittori, poeti, filosofi. Quando parliamo per esempio dell'ateismo noi parliamo di Nietzsche, parliamo di Feuerbach, di Schopenhauer, parliamo di Gramsci, parliamo di autorevoli pensatori. Quando parliamo della fede parliamo di Aristotele, parliamo di Tommaso d'Aquino, parliamo della gran parte dei filosofi medievali, parliamo di Leibniz, di Kant, in parte di Hegel perché poi Hegel aveva una religiosità che partiva da una rivisitazione del cristianesimo, ma comunque parliamo sempre di un credente e parliamo di tantissime personalità di spicco della tradizione storico-filosofica-letteraria-scientifica, eccetera. Quindi sono entrambe le due posizioni legittime. Quello che vorrei dire, suggerire, anche come stimolo, spero che questo video vi serva per pensare, per mettere in discussione e per far tornare in voi che avete fatto abdicare il pensiero critico, che avete rinunciato a pensare con la vostra testa, spero che questo video vi aiuti a riflettere che esistono le sfumature. Esiste quella che in filosofia si chiama l'ermeneutica, l'interpretazione. Allora perché devi essere ateo e rifiutare tutto a prescindere? Tutto, non c'è niente che va bene, va tutto male, tutto critico, non esiste niente. Non parlarmi di Dio. Indaga, pensa, interpreta, perché fa comodo dire che Dio non esiste. Che cosa intendi tu per Dio? Parliamone. Eh, Dio non esiste. La maggior parte degli atei si ferma a questo, tralasciando poi quelli che si dichiarano atei perché sono contro la Chiesa o alcune pratiche che la Chiesa porta avanti, come per esempio le dimostrazioni che da secoli ci fanno della loro immensa ricchezza. Siccome la Chiesa è ricca e non aiuta i poveri, io sono ateo. Ma quello è un ateismo debole. L'ateismo richiede pensiero. Eh, ci sono stati grandi atei, eh. per esempio il già citato Marx è stato un grandissimo ateo. Lo stesso Feuerbach ha scritto dei libri, questo filosofo, dove parla anche di antropologia, di storia delle religioni, dove parla di antropologia culturale, dove spiega i meccanismi per cui secondo lui Dio non esiste a partire dalle illusioni che l'uomo si fa e tratteggia anche un profilo psicologico molto interessante e dettagliato dell'uomo. Allora, quello vuol dire che è un ateo che ha ragionato. Per lui Dio non esiste ma perché ci è arrivato con un percorso. Si è aperto, no? Per poter essere ateo devi aprirti alla religione, per poter essere credente devi aprirti all'ateismo. Ecco il mio invito in questo video che voglio farvi e trasmettervi appunto a un invito caloroso, sincero, alla moderazione, che non vuol dire passività. Significa che intanto comprendete, comprendiamo, mi ci metto anche io in mezzo, che siamo degli esseri mortali, limitati, non saremo qui in eterno. E dobbiamo anche comprendere un'altra cosa, non a tutto c'è una risposta certa, univoca, a tinta unita, monolitica. Ci sono delle sfumature, delle realtà complesse. La nostra è una società complessa e come tale esige delle risposte complesse. Allora io mi interrogo, penso, ma leggo anche i testi sacri, leggo il Vangelo, leggo i Vangeli, ma leggo anche i Vangeli apocrifi però. E questo è un messaggio rivolto soprattutto alla seconda categoria da me tratteggiata, cioè quella dei credenti passivi, che hanno rinunciato completamente alla ragione, all'ermeneutica, all'interpretazione, al pensiero critico. Esistono anche i Vangeli apocrifi. No, 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 non si può perché la Chiesa, quelli li ha ripudiati, li ha rifiutati, i Vangeli apocrifi non dicono il vero sulla vita di Gesù. Puoi figurarsi, Gesù era fidanzato con Maria Maddalena. Ma come ci pensi, eretico? No. Una persona intelligente legge, legge anche i Vangeli apocrifi, legge la Bibbia, ma legge anche il Corano, legge i testi di altre religioni. Il mio è un invito alla saggezza, è un invito a far fruttare, appunto, fruttificare le migliori qualità che noi abbiamo. E fra queste qualità, l'uomo, ce lo insegna già Aristotele, ma tutti i filosofi grandissimi nei secoli l'hanno detto, tra queste qualità vi è la ragione. Vi è la ragione che ci porta a rielaborare. Ci sono stati grandi filosofi. Cito, primo fra tutti, Spinoza. Spinoza, nelle sue opere, parlava sempre di Dio, che pure è stato cacciato dalla comunità ebraica di Amsterdam con l'accusa di ateismo. Ma come? Voi leggete l'etica dimostrata secondo Metodo Geometrico, che è appunto una delle opere principali di Spinoza, e si parla spessissimo di Dio, come il trattato teologico-politico, si parla di Dio, eppure era ateo. Ma questo perché? Perché dovete interpretare la lezione di Spinoza, di Socrate, che tra l'altro è stato anche condannato a morte nell'Atene, nei suoi tempi, proprio per un'accusa che riguardava la religione. È stato accusato di introdurre nuove divinità. Quindi, vedete, la religione è un tema estremamente spinoso al quale non possiamo sottrarci. E in conclusione, ribadendo in parte quello che ho detto, io vi invito alla moderazione, vi invito ad abbandonare ogni forma di fanatismo, ad abbandonare l'idea che siete più intelligenti se siete atei, o più intelligenti se siete credenti. Imparate ad ascoltare. Io ho parlato con molte persone che si definiscono credenti, che rifiutano categoricamente, a prescindere, persone che professano altre religioni, altri credo. Io sono cristiano cattolico, la verità sta nel cristianesimo, tu sei buddista, tu stai sbagliando, no, tu sei un fanatico. E lo stesso Gesù, se fosse qua oggi in carne ed ossa, ti rimprovererebbe. Perché Gesù è stato un esempio di ascolto, è stato un esempio di accoglienza, di dialogo. Così come le altre personalità venerate dalle varie fedi presenti nel mondo, perché sono tantissime. Noi parliamo insomma di religione islamica, di ebraismo, parliamo di cristianesimo, di induismo, di buddismo, di confucionesimo, ma sono tantissime le fedi, le religioni presenti nel mondo, veramente tantissime. Chiaramente le più note sono quelle 5-6 che sentiamo spesso citate ovunque un po' nei libri, in televisione, ma sono molte. Quindi concludo veramente invitandovi al pensiero critico, invitando te, Atio, che stai guardando questo video, a sentirti un po' più nei limiti che hai. Perché tu, come tutti noi, anche tu morirai, anche tu non hai il dominio del mondo, non sai tutto, non conosci tutto, non sei onnisciente, al di là che Dio esista o meno, insomma non sei veggente, onnisciente, onnipotente. Quindi riconosci di avere dei limiti e di non poter dare delle risposte così nette, così marcate. Apriti alla lettura, leggi i Vangeli, leggi la Bibbia, leggi il Corano, leggi i testi sacri, leggi quello che hanno prodotto anche autorevoli filosofi cristiani. Leggilo, persuaditi in qualche modo della curiosità con la quale molti autori hanno creduto in Dio, hanno dato la loro vita anche in Dio, anche personalità illustri. Penso ad esempio a Francesco D'Assisi, come lo liquidiamo? Francesco D'Assisi come un poveraccio, come un povero illuso, intanto ha fatto del bene a moltissime persone ed è stato un esempio e sempre lo sarà per tanti. E tu credente, cerca di indagare anche altro. Leggi quello che la Chiesa, che la tua Chiesa ti dice di non leggere, perché se evidentemente ti dice di non leggere c'è qualcosa che sta nascondendo. Affronta anche i testi di altre religioni. Analizza, leggi, studia la storia. La tua Chiesa è sempre stata corretta, buona, brava, gentile, sincera, amorevole, oblativa con le persone. Fai questo. E quindi incomincia in qualche modo a interpretare. Il messaggio è un po' questo. Personalizzate la vostra fede. Sia essa è una fede autentica o una negazione della stessa fede, quindi l'ateismo. Personalizzatelo con la ragione, con il pensiero. Interpretate, comparate, valutate, criticamente, studiate, leggete e apritevi anche a quello che per voi è inesistente. Perché è facile snobbare. Questa è l'epoca degli snob. A me non mi interessa, io credo in Dio, c'è solo lui, oppure io non credo in niente, tanto è banale. No, non è niente banale, non è niente scontato. La realtà è complessa, è come tale, ripeto, esige risposte complesse. Bene, vi ringrazio per l'ascolto. Aspetto i vostri commenti, le vostre riflessioni qua sotto e invito per chi non l'avesse fatto ad iscriversi al mio canale cliccando il tasto rosso che sta qua sotto con scritto iscriviti. Grazie dell'ascolto.